Ciao a tutti da Chris Atticino, il salutatore del blog, eccomi insieme a un grande degli anni 80, Ria Ferris, abbastanza grande, ma non solo per quello, ma per la dolce vita e per la musica che anche lui ci ha dato negli anni 80, e una sorpresa speciale per tanti. Grazie, salutiamo, un saluto a tutti i guardatori, un saluto del blog, gli amici di Youtube, a tutti gli amici di Youtube, di Facebook, di Twitter, di Alcuncone, e a te anche. Grazie Ria, e a tutti i compagni di 7080, esatto, ciao.